La Vibonese dopo un anno di sofferenze e di bocconi amari può finalmente far esplodere la sua gioia. Ci sono voluti calci di rigore per decretare la vincente del gironei di Serie D 2017-2018 al granillo di Reggio Calabria di fronte per il drammatico spareggio promozione. Vibonese e Troina prime classificate a pari punti nella regular season. Partita inevitabilmente tesa con le due squadre che tentano di arrivare verso la porta avversaria ma che sono anche guardinghe per evitare buchi difensivi. Alla fine dei 90 minuti il risultato resta inchiodato sullo 0-0 nonostante i tentativi di Chiavaro, Fricano e Basquez da parte siciliana e di Allegretti, Bubas e Soe da parte calabrese. La squadra di Nevi-Orlandi ci prova in tutti i modi ma l'attenzione della gara cruciale ovviamente si fa sentire molto. Si va ai supplementari ma neppure nei 30 minuti ulteriori. le due squadre riescono a sbloccare il punteggio giungendo quindi alla lotteria dei rigori e costringendo le rispettive tifoserie ad un'ulteriore immensa sofferenza fino al termine. La spunta alla fine la Vibonese per 5-3 decisivo un errore dal dischetto dei siciliani. È stata una grande stagione per la società Rosso-Blu una promozione meritata con una poderosa rimonta dopo le tante tribolazioni e sofferenze della fine del campionato scorso e dell'inizio di quest'anno. La Vibonese riesce nell'impresa di tornare dopo un solo anno in Serie C. L'intera Calabria gioisce assieme a Rosso-Blu i complimenti alla società del presidente Caffo, del DG Beccaria, del DS Lo Schiavo e del tecnico Orlandi da parte delle redazioni del giornale di Calabria, di RTC Telecalabria e di RTC Sport sempre presenti durante il cammino stagionale della squadra Rosso-Blu fino alla cavalcata coronata dalla meritata promozione in Serie C. L'intera Calabria L'intera Calabria Grazie a tutti.